allora direi che possiamo iniziare a vedere insieme rapidamente direi la risoluzione della prima parte come è andata? ho visto che qualcuno ce l'ha fatta anche abbastanza facilmente altri forse un po' meno ovviamente credo sia abbastanza questione di esercizio e di capire un po' le... di ricordarsi quantomeno un po' le basi di questo nuovo linguaggio allora partiamo dal primo esercizio che era un esercizio che vi chiedeva di dire che cosa stampava questo programmino qui sulla sinistra e l'obiettivo era vedere se avete capito vabbè le if ok ma questo mi sembra abbastanza basilare soprattutto il concetto di truti e falsi va bene partiamo dalla prima stampa dalla prima richiesta questa test if con i parametri a b c tutti a 0 che cosa vuol dire? allora innanzitutto bisogna ricordarsi che il valore 0 numerico valutato in un contesto booleano in python è valutato come falsi ok? quindi se abbiamo if 0 d'accordo questa cosa è falsi 0 è falsi e quindi non entreremo nella if al massimo nella else poi ovviamente qui le cose sono un po' più complicate ci sono anche delle or e delle end ma questa era la prima cosa da ricordarsi la seconda cosa a cui fare attenzione è che ci sono una serie di if e leaf che sono indipendenti no? ad esempio qui in particolare abbiamo tre rami di if principali indipendenti quindi abbiamo questo scusate non vedete niente ok eccoci abbiamo questo qui evidenziato il primo ramo poi questo e poi l'ultima questa qua quindi queste tre if principali sono valutate indipendentemente l'una dall'altra queste sono le due cose a cui fare attenzione vabbè e se seguiamo i vari rami partiamo dal primo dal primo if a or b in questo caso cosa succede? a vale 0 b vale 0 entreremo in questa if no perché sono entrambi 0 e quindi questa prima if non produce nessun output giusto? perché già qui siamo tagliati fuori e non c'è nessuna else relativa a questa if di primo livello chiamiamola così seconda if a and c ci entriamo qui? no sicuramente non entriamo qui e va bene però qui in questo caso c'è un if quindi questa è falsa va bene passiamo a valutare la seconda altrimenti b and c anche in questo caso sono tutti due 0 quindi non entriamo c'è però qui una else quindi in tutti gli altri casi print 5 giusto? quindi qui sì che entriamo quindi sicuramente stamperà 5 sì in questo caso lo stampa senza apici perché è una stampa su e poi c'è ancora un'ultima if if c di nuovo c è valutato come falsi perché vale 0 c'è una else però e quindi direi 7 quindi questo programma qui se ci mettete anche una virgola e mezzo va bene lo stesso non è questo programma stampa 5 e 7 c'eravamo fin qua? se scrivo solo 5 e 7 va bene è uguale in questo caso direi il secondo qui bisognava fare attenzione l'ho messo apposta questa specie di trabocchetto abbiamo lo 0 qui come parametro B che sarà sicuramente di nuovo falsi giusto? la differenza qui è che c'è una lista con il valore 0 al suo interno ok? allora noi sappiamo che il valore 0 è valutato come falsi sappiamo anche che una struttura dati vuota è valutata come falsi in realtà questa è una lista con un elemento quindi anche se l'elemento stesso al suo interno è falsi questa è comunque una lista che contiene almeno un elemento e quindi è valutata come truti ok? quindi vero falso vero vero questo era un po' un trabocchetto e quindi sapendo che è A vero B falso C vero possiamo fare tutti i nostri ragionamenti quindi A or B entriamo in questa IF direi di sì perché A è vero ce ne basta uno dei due quindi andiamo a valutare IF B B è falso quindi non la facciamo e quindi direi che c'è una S la prima il primo ramo stamperà sicuramente due passiamo al secondo che vi ricordo è indipendente da quello sopra A and C sì perché sono entrambi veri quindi entriamo e stampa direttamente 3 giusto? e non fa nient'altro perché ha fatto il 3 ha fatto il corpo principale della IF quindi non farà né la ELIF né la S ovviamente e poi c'è l'ultima che è più facile IF C in questo caso sì perché è una lista con un elemento e quindi stampiamo 6 giusto? passiamo al terzo qui sì che abbiamo una struttura dati vuota in questo caso è falsi perfetto poi abbiamo una tupla qui con due elementi quindi sarà sicuramente truti abbiamo almeno 1 che è un numero diverso da 0 anche in questo caso sarà truti quindi falsi truti truti e di nuovo qui possiamo seguire tutti i vari rami quindi vabbè abbiamo capito no? come funziona quindi questa stampa 1 4 6 siete d'accordo? se qualcuno ha qualcosa in contrario lo dica la quarta beh qui false lo dice la parola stessa è false quindi valutato come falsi di nuovo una struttura dati vuota giusto e poi una struttura dati con un elemento e di nuovo il trucchetto di prima ok in questo caso è un set con lo 0 e anche se lo 0 è falsi quello comunque è un set che contiene un valore il valore 0 e quindi è truti quindi falsi falsi truti questa stampa 5 e 6 giusto? la quinta un po' di complicazione in più abbiamo le funzioni max e min ma veramente è abbastanza banale max di 1 0 restituirà direi 1 no? e quindi il primo valore è truti min di 1 0 viceversa restituisce 0 e quindi questo valore sarà falsi meno 1 sempre truti quindi ovviamente queste funzioni vengono valutate prima di poi passare il parametro alla funzione quindi calcoliamo quanto restituiscono queste funzioni e sulla base del risultato stabiliamo se truti o falsi allora questa stampa di nuovo 2 3 e 6 giusto? l'ultima allora questo è sempre il solito trucchetto qui a questo punto abbiamo una lista che contiene una struttura dati vuota in teoria è falsi ma questa è sempre una lista con un elemento e quindi in generale questo è truti il 4 truti 1 meno 1 un po' come per max e min calcoliamo prima quanto fa e quello è il valore su cui basarci quindi fa 0 e questo è falsi quindi truti truti falsi e stampiamo in questo caso 1 5 7 giusto? quanti hanno preso 6 punti? ok senza controllare su REPL spero ok perfetto passiamo al secondo esercizio qual è l'output qui quindi questo esercizio è un po' diverso vi si è dato un programma un po' più complicato e vi si chiede di stampare l'output quindi qui c'era una lista che viene passata a delle funzioni che cercano di modificare questa lista e poi questa lista viene stampata qual è l'output qui? qualcuno si sbilancia? 3 4 5 8 3 4 5 8 dice il vostro compagno qualcuno ha qualcosa in contrario? ok 1 2 3 4 5 6 direi che questa è la risposta corretta perché? cerchiamo di analizzare bene il programma allora abbiamo una facciamo così lo incollo in Python Tutor così vediamo bene quello che succede vediamo un po' ok allora vediamo quello che succede abbiamo nel programma principale una lista my list che contiene 1 2 3 4 poi passiamo questa lista alla prima funzione fn1 che cosa fa fn1? utilizza il metodo extend allora dovreste ricordarvelo ma già la parola usata per il nome del metodo ci fa intuire che cosa fa la extend prende questa lista a in questo caso e la estende con una serie di ulteriori valori quali sono questi ulteriori valori? sono un range da 5 a 7 quindi qui la prima cosa da fare è capire quanto ci restituisce questo range di 5 a 7 5 a 6 ok il 5 è inclusivo il 7 è esclusivo quindi questa extend prende a che gli abbiamo passato che quindi contiene 1 2 3 4 e la estende con 5 6 giusto? allora il metodo extend lavora proprio modificando direttamente a ok e va bene e poi invochiamo una seconda funzione passandogli questa lista modificata che cosa fa questa funzione b questa funzione fn2 apparentemente cambia la lista che gli abbiamo passato ridefinendola in 3 4 5 e poi ci appende l'8 dopodiché finisce quindi finisce di conseguenza anche fn1 e il programma principale stampa my list qual è la cosa però qui che ci fa dire che la risposta del vostro compagno 3 4 5 8 è sbagliata scusami no in realtà il motivo è perché fn2 fa un riassegnamento e quindi mentre qui la lista è sempre la stessa quella che io gli ho passato no ok a è semplicemente un altro riferimento a my list e entrambi i riferimenti puntano alla stessa struttura dati ok e quindi qui in effetti in fn1 si va a modificare la stringa originale con questo riassegnamento qui la funzione fn2 sta in realtà creando una nuova lista ok quindi questo b non è più un riferimento alla lista originale ma diventa un riferimento a questa nuova lista che è creata in memoria vediamo l'esecuzione che chiarisce meglio ok questo è il programma principale come vedete abbiamo my list che punta a una struttura dati che è stata creata in memoria una lista di numeri se ora io invoco fn1 fn1 che cosa fa innanzitutto si crea viene creato un nuovo riferimento chiamato a il parametro della funzione alla stessa lista ok quindi in questo momento a e my list vedete puntano alla stessa struttura di memoria e quindi se io agisco su questo riferimento ad esempio usando il metodo extend vedete modifico direttamente la lista originale poi chiamo fn2 di a ok l'ho richiamata a questo punto viene creato un terzo riferimento chiamato b sempre la stessa struttura dati quindi fin qui tutto bene se però io adesso faccio questo riassegnamento per b dico b uguale a qualcosa lo sto riassegnando a che cosa a una nuova lista vedete che contiene i valori 3 4 5 ora lasciate perdere il fatto che ovviamente i valori stessi sono degli altri oggetti che stanno da altre parti quindi questa visualizzazione è un po' confusa però come vedete adesso ci sono due liste e b adesso è stato riassegnato tramite questo uguale ad una nuova lista a questo punto la append verrà fatta su questa nuova lista mentre la lista originale rimane quella di prima quindi in sostanza le modifiche che facciamo qua dentro si perdono all'interno di questa funzione e la stampa ovviamente è questa lista qui che contiene 1 2 3 4 5 6 è chiaro? ok andiamo alla domanda 3 qui invece è sempre un esercizio dove vi si chiede di dire che cosa stampano una serie di chiamate e qui il concetto come potrete immaginare vedere se avete capito gli slice allora qui innanzitutto dobbiamo capire che cos'è x ok quindi questo range ci ritorna che cosa una serie di numeri che poi noi convertiamo in una lista che vanno da meno 10 inclusivo a 30 esclusivo quindi in realtà ci fermeremmo a 29 giusto? però con step di 5 quindi in sostanza questa roba qui è direi meno 10 giusto? poi saltiamo 5 e andiamo a meno 5 0 5 10 15 20 25 e basta perché in teoria la fine è 29 però il prossimo numero sarebbe 30 quindi è già fuori dal nostro range quindi questa è la struttura dati x la lista x su cui noi poi dobbiamo andare a calcolare tutti gli slice quindi x di 1 2 punti niente che cosa fa? da meno 5 fino alla fine quindi l'uno è esclusivo quindi partiamo da posizione 1 e andiamo fino alla fine se non specifichiamo niente vuol dire fino alla fine va bene non sto lì a scriverlo è quella evidenziata in figura ok il secondo il contrario x di niente 2 punti 1 meno 10 perché? perché allora se non mettiamo niente prima dei due punti vuol dire parti dall'inizio fino a dove? fino all'1 esclusivo quindi in realtà fino a 0 quindi a posizione 0 occhio però che scrivere così per me è un errore conterei 0 5 punti direi perché qui non è il valore singolo ma è una lista ops con un elemento quindi quelle parentesi quadre lì sono fondamentali questo è il motivo per cui vi dicevo di essere precisi e uno slice ritorna una lista e questo invece è diverso perché x di 1 non è uno slice in questo caso anche qui era un po' un trabocchetto ma è meno 5 senza le parentesi in questo caso facciamo accesso posizionale a posizione 1 di x che è qui qui non c'è esclusivo inclusivo è la posizione 1 vabbè poi x 2 4 0 5 e basta giusto quindi posizione 2 inclusiva e 4 esclusivo quindi in realtà è la 3 meno 4 meno 2 quindi lo start è meno 4 l'end è meno 2 cosa vuol dire questo che partiamo dal fondo a contare i nostri start e end giusto quindi meno 4 parto dal fondo 1 2 3 4 inclusivo quindi 10 l'end parto sempre dal fondo meno 2 1 2 esclusivo quindi quello prima in questo caso e quindi 15 fine l'ultimo un po' più complicato lo start è meno 2 l'end non c'è lo step è negativo meno 2 come funziona in questo caso? ok come dice il vostro compagno bisogna cominciare dal fondo andando indietro perché c'è uno step negativo saltandone 2 per volta quindi incominciamo da meno 2 come prima 1 2 quindi siamo qui esclusivo e quindi partiremmo dal no inclusivo scusate 1 2 e lo start è inclusivo quindi partiamo dal 20 e va bene e poi andiamo indietro fino a dove? fino all'inizio in questo caso perché stiamo andando indietro e non c'è una end saltandone 2 per volta quindi abbiamo il 20 il 10 ne saltiamo uno in mezzo in sostanza lo 0 e il meno 10 giusto? ok questo era esercizio 3 lo slice l'ultimo un po' un mischione soprattutto sulle list comprehension generator comprehension eccetera allora il primo è una list comprehension con due cicli for quindi un po' più complicata ne abbiamo visto anche un esempio durante le lezioni quando si hanno due cicli for all'interno di una list comprehension è come avere due cicli for annidati ok dove il primo è quello esterno e il secondo è quello interno giusto? la list comprehension poi ovviamente restituirà una lista quindi qui sicuramente avremo le due parentesi quadre allora x più y for x in 2 e 5 for y in 1 e 5 if x diverso da y quindi in sostanza questi valori qui come vengono controllati avremo il 2 nel ciclo esterno che verrà matchato con l'1 e con il 5 quindi avanzerà il ciclo for interno quando il ciclo for interno ha finito avanza quello esterno va al 5 che verrà matchato con di nuovo 1 e 5 e che cosa facciamo? prendiamo la somma di x più y solo quando x è diverso da y quindi 2 1 direi che lo prendiamo e mettiamo 3 poi abbiamo 2 5 di nuovo lo prendiamo e direi che abbiamo 7 poi avanza quello esterno abbiamo 5 e 1 lo prendiamo sono diversi e 6 e poi ancora 5 e 5 non lo prendiamo perché sono uguali quindi questo stampa 376 una lista con 3 elementi siete d'accordo? sì perché è una list comprehension stampa una lista perché è una list comprehension e quindi genera una lista vedete le parentesi quadre all'interno di quelle tonde ok la seconda sì ok ripetiamo allora questa è una list comprehension proviamo a trasportarla in repl così si vede meglio questa list comprehension si potrebbe riscrivere in questo modo for x in 2 5 due punti ciclo for interno for y in 1 5 2 punti e qui la if if x diverso da y 2 punti faccio quello che devo fare in realtà qui mi serve una struttura dati di appoggio ovviamente quindi chiamiamola risultato lista vuota e se x diverso da y risultato punto append x più y ok ho tradotto quella list comprehension nella versione imperativa ecco e allora qui è chiaro che questi come funzionano partiamo con questo ciclo for esterno quindi x varrà 2 andiamo dentro avremo y che vale 1 ok x e y sono diversi e quindi prendo x più y quindi 2 più 1 3 poi torno su qua faccio avanzare il ciclo for interno che va a 5 quindi abbiamo x uguale a 2 y uguale a 5 sono diversi e quindi risultato punto appende 2 più 5 7 questo for finisce e quindi torno qui questo avanza passa a 5 e ovviamente ripeto il ciclo for interno no quindi x vale 5 y vale 1 sono diversi risultato punto appende 5 più 1 6 faccio ancora avanzare il ciclo for interno y va a 5 a questo punto x che vale 5 y che vale 5 e in questa if non ci entro e quindi non appendo più niente risultato quello che abbiamo visto 3 7 6 allora la seconda qui abbiamo sempre una list comprehension giusto vedete le parentesi quadre subito dopo le tonde della print quindi di nuovo qui il risultato sarà una lista che cosa facciamo qui prendiamo x di 1 per 100 x di 0 per ogni x in una lista di tuple quindi questo for metterà in x una tupla per volta giusto quindi al primo giro ci sarà la tupla 5 10 al secondo 4 25 al terzo 3 e 7 e noi per ognuna di queste tuple facciamo l'operatore modulo tra i due elementi contenuti quindi in sostanza al primo giro noi faremo x di 1 che vale 10 per 100 x di 0 che vale 5 quanto fa questa roba qui? il resto della divisione e quindi è 0 al secondo giro faremo 25 per 104 giusto? e quindi qui il resto è di 1 e al terzo giro faremo 7% 3 vedete che prendiamo prima il secondo elemento e poi il primo e anche in questo caso è 1 quindi questa roba qui stampo una lista con 0 1 o poi c'è un esempio sulla zip vi ricordate cosa fa la zip? più o meno allora è sempre una list comprehension quindi di nuovo le due quadre ci andranno poi vogliamo prendere min x dove x viene restituito da questa zip qui in questo ciclo for se vi ricordate la zip cerca di mettere in colonna gli elementi di una sequenza e poi vi restituisce una colonna per volta all'interno di una tupla dove ogni tupla è una colonna in sostanza questa zip qui al primo giro ci restituirà una tupla che contiene la prima colonna se vogliamo visualizzare così questa roba qui delle varie stringhe quindi una tupla che conterrà f p o e q le mettiamo in colonna e prendiamo appunto i primi elementi in colonna al secondo giro la zip ci restituirà una tupla che contiene la seconda colonna quindi tutte le seconde lettere di queste varie stringhe quindi b r l e b noi di queste colonne quante ce ne sono direi tre vogliamo sempre prendere il minimo minimo ovviamente qui siamo abbiamo dei caratteri e quindi prenderemo il minimo rispetto alfabeticamente ecco quindi il minimo della prima colonna composta da f p o q sarà f tra apici perché è un carattere una stringa il secondo minimo sarà tra b r l b direi b e l'ultimo direi a ok vi ricordo qui avevamo una zip dove ogni sequenza aveva la stessa lunghezza giusto stringhe di tre caratteri se avessimo avuto una stringa di due caratteri questa zip qui ci restituiva solo le prime due colonne cioè si ferma quando esaurisce la struttura dati più corta in questo caso però erano tutte da tre e quindi ci restituiva esattamente le tre colonne ok l'ultima print no penultima scusate in questo caso siamo in presenza di un generatore ok perché c'è questa next quindi è una generator compression vedete ci sono le parentesi tonde al posto delle quadre e poi noi su questa comprehension facciamo una next in sostanza qui l'output non è un generatore ma è un valore restituito da quel generatore quindi è un valore singolo mi seguite perché c'è questa next prima facciamo il generatore e poi lo invochiamo con una next quindi questa print restituirà il primo valore restituito dal generatore che cosa fa il generatore restituisce x per 2 per ogni x in un range range che va da 5 a 9 quindi in sostanza restituisce 5 per 2 al primo giro 6 per 2 al secondo giro 7 per 2 al secondo giro e via dicendo qui siamo interessati solo al primo valore quindi 5 per 2 10 senza nessuna parentesi è un valore singolo restituisce solo il primo valore perché c'è una next ok che cosa fa la next la next applicata ad un generatore fa avanzare il generatore di uno step quindi chiede il prossimo valore al generatore quindi in linea di principio questo generatore restituisce 10 12 14 eccetera per come è costruito la prima next ovviamente ci restituisce 10 se noi avessimo due next avremmo 10 12 ok rapidamente l'ultimo sulla min e le lambda expression qui vogliamo una min in una lista che però contiene delle informazioni strutturate ogni informazione è una tupla composta da due elementi una stringa e un numero ok noi vogliamo calcolare calcolare il minimo sulla base di che cosa dell'elemento a posizione 1 di ogni tupla quindi un minimo numerico e quindi qui l'output è bc2 vedete che abbiamo due tuple in cui il valore è 2 appunto in teoria ma non ne sono così sicuro lo proviamo dovremmo la funzione si basa sull'ordine lessicografico cioè analizza l'elemento che gli passiamo quindi il 2 vede che sono uguali e quindi passa ad analizzare il secondo e quindi bc ovviamente è minore di moto dal punto di vista alfabetico però non vorrei sbagliarmi quindi lo proviamo il modo più semplice di provarlo è invertire bc con moto no? quindi se veramente segue l'ordine lessicografico nonostante io abbia invertito moto con bc dovrebbe sempre restituirmi bc e infatti mi restituisce moto quindi ok non segue l'ordine lessicografico in questo caso ma restituisce il primo che trova ok va bene se non avete domande particolari possiamo fare una decina di minuti di pausa e poi alle 11 facciamo la seconda parte della della simulazione al pc ok allora come siamo messi è passata un po' più di un'ora male bene più o meno allora diciamo che effettivamente questa simulazione era abbastanza complicata ok l'ho fatto apposta probabilmente all'esame esatto per farvi deprimere probabilmente l'esame sarà un briciolo più semplice non troppo ma partiamo dal primo il primo è facile quindi questo è abbastanza è abbastanza facile ecco il primo ci chiede di scrivere un programma proviamo a risolvere insieme questa seconda parte che permette all'utente di inserire una stringa arbitraria che può essere composta da qualunque cosa caratteri numeri ponteggiatura e data questa stringa vogliamo trovare e stampare se esiste il carattere numerico più piccolo incluso nella lista e lì c'è anche un esempio di input e output quindi per questa stringa qui ovviamente il carattere numerico più piccolo è il 2 c'è anche un suggerimento per controllare se un singolo carattere è un numero si può usare il metodo punto isdigit quindi carattere punto isdigit ci restituisce vero se è un numero falso se è qualcos'altro tipo una lettera uno spazio o un punto ok allora vedete che qua non è specificato nessun metodo con cui risolverlo ma noi sappiamo che dobbiamo cercare di farlo in modo più funzionale possibile qual è il modo più funzionale possibile che ci può venire in mente direi che una possibilità potrebbe essere quella di data questa stringa che inserisce l'utente tagliare via tutto quello che non ci interessa e quindi recuperarci ad esempio una lista tramite una list comprehension una lista di caratteri numerici o numeri meglio e poi da quella lista trovarci il più piccolo ok quindi la prima cosa da fare sicuramente è chiedere l'input all'utente e questo si fa con la funzione input appunto quindi stringa uguale input inserisci stringa giusto e qua ci prendiamo la stringa dell'utente ora facciamo un passo per volta come possiamo estrarre da questa stringa una lista ad esempio dei caratteri numerici possiamo farlo direi con una list comprehension potremmo scorrere la stringa carattere per carattere eccetera ma quello sarebbe la versione imperativa noi potremmo estrarci una lista di caratteri numerici come questo for ci sarà quindi for ch in stringa qui prendiamo un carattere per volta poi questo carattere lo prendiamo lo mettiamo nella lista solo se il carattere è un numero e quindi possiamo usare quel metodo che era linkato nel come suggerimento nel testo quindi if ch punto is digit ok prendiamo il ch prendiamo un carattere per ogni carattere in stringa se quel carattere è un numero vediamo che cosa stampa qui inserisci una stringa bla 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 qualche numero qualche numero bla 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 vediamo che siamo riusciti a recuperare una lista di quattro dei tre caratteri numerici scusate che erano inclusi nella stringa qua che ho scritto ora questi sono ancora caratteri vedete i doppi apici volendo visto che vogliamo trovare un minimo dal punto di vista numerico possiamo anche tradurre convertire questo ch in un numero intero con la funzione int ovviamente questa int siamo sicuri di poterla fare perché c'è questa if qui quindi non andiamo incontro a nessun tipo di problema dimmi se il programma funziona ma è molto più complicato di quello che deve essere quindi il punto è più basso allora la domanda la domanda del vostro compagno è se il programma funziona ma è molto più complicato di quello che dovrebbe essere se si prendono comunque tutti i punti o no dipende dipende come l'hai fatto se hai usato se mi hai fatto capire che sei in grado di utilizzare il paradigma funzionale quindi se ovviamente l'hai risolto in modo imperativo con cicli for annidati non prenderai il massimo dipende in quel caso lì vado proprio a valutare il codice come l'hai scritto certo zero non lo prendi però allora rimettiamo una stringa 4 6 bla 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 6 e adesso vediamo che abbiamo una lista di numeri su questa lista adesso possiamo banalmente trovare il minimo e quindi ti posso dire print min e gli passo direttamente la mia list comprehension vedete che con una riga ho fatto tutto ok questa è la list comprehension che ci estrae i numeri dalla stringa e questo è il minimo e il minimo dipende da quello che scrivo metto anche della punteggiatura ora non so perché sta facendo questo casino riproviamo ok ciao 1 qualche lettera 5 spazio 7 il minimo ovviamente è 1 adesso il testo ci dice anche di evitare il più possibile la possibilità di incorrere in eccezioni allora qui dove potrebbero nascere problemi se non ci sono numeri direi o se la stringa è vuota o più in generale se non ci sono numeri all'interno della stringa questa conversione qui ripeto ad intero funziona non dà mai eccezione perché noi controlliamo che il carattere sia effettivamente intero però se io ad esempio scrivo una stringa senza numeri e qui vado incontro a una value error ok perché è una value error perché sto cercando di cercare il minimo in una struttura dati che è vuota non c'è nessun numero quindi quella lista è vuota allora sappiamo che eccezione si potrebbe verificare una value error e va bene posso semplicemente intercettarla e gestirla ad esempio tramite una try except ok except che cosa value error cioè vado ad eseguire il mio codice e se per caso si verifica una value error non blocco il programma ma posso tramite questo blocco di except gestire l'eccezione ovviamente potremmo gestirla in molti modi la versione più semplice è stampare un messaggio di errore deve contenere almeno un numero ok questo ovviamente è il modo più semplice di gestirla potremmo richiedere la stringa all'utente potremmo fare tante cose ma direi che questo è il modo più semplice quindi se adesso io scrivo una stringa senza numeri al posto di tutte quelle scritte rosse brutte c'è il nostro messaggio di errore ok primo esercizio in sostanza una riga di codice domande ok abbiamo guadagnato 4 punti passiamo al secondo il secondo ci chiede di scrivere un generatore chiamato genera primi in cui il compito è di generare i numeri primi all'interno di un range specificato il generatore in particolare riceverà due parametri lo start e lo stop e restituirà uno per volta i numeri primi tra start inclusivo e stop inclusivo anche in questo caso va bene questa è una convenzione che ci siamo dati noi ad esempio dato questo codice primi uguale genera primi tra 50 e 60 il nostro generatore genera primi che andrà ovviamente definito implementato stamperà 53 e 59 quindi i due numeri primi che possiamo trovare nel range tra 50 e 60 qualcuno è riuscito a farlo si allora come facciamo è un generatore è un generatore che però ha bisogno di ricevere in questo caso due parametri quindi non ci basta una generator comprehension dobbiamo definire il nostro generatore come una nostra funzione la differenza con una funzione normale sarà che al posto della della keyword return ci sarà la nostra benedetta yield def genera primi questo sarà il nostro generatore riceverà due parametri start e stop ok allora come facciamo a trovare i numeri primi in un range innanzitutto partiamo dalla cosa base quando è che un numero è primo quando è divisibile solo per se stesso e per uno benissimo e dato un numero come faccio a dire se è primo con un programmino sì ok potrei provare a dividerlo per se stesso e per uno ma non mi basta per dire se questo numero è primo o no ci conviene forse ragionare al contrario cioè noi sappiamo che tutti i numeri sono divisibili per se stessi e per uno per vedere se è primo potremmo in realtà andare a vedere se non lo è cioè provare tutti gli altri numeri quei numeri che stanno tra due e numero meno uno provare a fare la divisione e se anche solo una volta trovo che il resto è zero vuol dire che quel numero non è primo e quindi lo scarto se facciamo da due a n mezzi dato che comunque se trovassimo da per esempio se fosse n mezzi di divisore sapremmo che due e l'altra o dividore sì sì ovviamente poi ci sono varie possibili ottimizzazioni sì certo quindi potremmo andare anche solo fino a n mezzi comunque in linea di principio il la strategia potrebbe lavorare in modo inverso potrebbe essere lavorare in modo inverso quindi mi servono due cose il numero da controllare e questo ci sarà ovviamente un ciclo for più esterno che va chiamiamolo dividendo che va da start a stop giusto quindi poi ovviamente il generatore ne analizzerà uno per volta e come lo posso fare for dividendo in range start e basta stop abbiamo detto che per noi anche lo stop deve essere inclusivo e quindi sarà stop più uno giusto perché nel range lo stop è esclusivo noi lo vogliamo inclusivo ok quindi questo ciclo for uno per volta controllerà i valori all'interno del nostro range supponiamo primo valore 50 adesso devo dire se questo valore è primo oppure no se è primo lo ritornerò con una yield e quindi il generatore si bloccherà lì se non è primo vado avanti lo scarto e passo a controllare il seguente giusto allora potrei controllare il mio dividendo supponiamo 50 con tutti i numeri che abbiamo detto prima quelli che vanno ad esempio da 2 a 49 se non vogliamo applicare troppe ottimizzazioni come faccio? dico for divisore in range direi 2 virgola dividendo è esclusivo quindi in automatico arrivo a quello prima quindi il pattern potrebbe essere questo avere una variabile booleana che chiamo primo che imposto a priori a vero per me quel dividendo lì è vero è primo poi scorro tutti i possibili divisori e se anche ne trovassi solo uno per cui il resto è zero reimposterò questa variabile primo a falso poi controllo quella variabile lì e so dire se il mio numero è primo oppure no quindi all'interno di questo for dico if dividendo per cento divisore uguale uguale a zero vuol dire che in realtà quello che pensavo il numero è primo non è vero e quindi dico primo uguale false alla fine di questo ciclo qui sui divisori posso controllare primo quindi if primo ok cosa posso fare yield del mio dividendo lo restituisco perché so che è primo altrimenti non faccio niente e in automatico il mio generatore continuerà con il prossimo numero è chiaro c'è una versione un po' più ottimizzata in cui possiamo evitarci di utilizzare questa variabile di supporto noi sappiamo che se mai entrassimo qui dentro noi quel numero lo dobbiamo scartare è inutile continuare a controllare altri divisori ne basta uno quindi qui potremmo dire break usciamo dal ciclo e poi potremmo sfruttare la else dei cicli for che abbiamo visto rapidamente a lezione questa else viene eseguita solamente quando il ciclo termina in modo naturale diciamo così quindi quando raggiunge la sua fine quindi se incontriamo un break questa else non verrà mai eseguita mentre se il ciclo for termina fino al fondo viene eseguita la else quindi la else è il punto in cui possiamo dire ok è primo perché siamo arrivati al fondo e quindi possiamo fare la yield altrimenti torniamo su e controlliamo il prossimo dividendo a questo punto il nostro generatore è pronto possiamo generarlo e invocarlo e quindi dico primi nel programma principale uguale genera primi tra ad esempio 50 e 60 se vogliamo mantenerci al testo dell'esercizio e poi possiamo dire for n in primi due punti print n esattamente le tre righe di esempio che c'erano sul file vediamo dove è finita eccola qua ho sbagliato a scrivere dividendo da qualche parte ah qua dividendo si dividendo dividendo 53 59 domande? l'avete fatto così? avete pensato un altro modo? si? perché scusami allora il vostro compagno chiede perché non facciamo esplicitamente una next perché le fa implicitamente il ciclo for le next ciclo for implicitamente fa avanzare al suo interno chiamerà le varie next potevo anche scrivere print next primi in questo caso mi dava il primo 53 ovviamente io però non so a priori quanti ce ne sono e quindi utilizzo il ciclo for che in automatico mi fa il numero di next necessario cioè gestisce quella stop iteration exception quando la trova si ferma e quindi riesce a chiamare il numero di next necessario ok ultimo esercizio quello più complicato in generale anche all'esame l'ultimo è il più complicato qui vi si chiede esplicitamente di scrivere una funzione ricorsiva quindi data una lista di numeri di partenza tipo questa qua e un valore intero target tipo questo 9 scrivere una funzione ricorsiva che trovi se esiste ovviamente il sotto insieme di numeri più piccolo ovvero col numero minore di elementi nella lista di partenza la cui somma sia esattamente uguale a quel numero target nel caso in cui ci sia più di un sotto insieme vincente il programma può fornirne uno a caso il primo che trova ad esempio questo era un esempio data questa lista e il numero 9 dobbiamo trovare la sottolista più piccola la cui somma sia esattamente 9 e va bene quindi possiamo avere 7 e 2 la cui somma fa proprio 9 possiamo avere 8 e 1 la cui somma fa esattamente 9 e possiamo avere sia questo 8 1 lì che è evidenziato ma anche questo 8 più questo 1 qua ovviamente o questo 7 e questo 2 qua quindi il sotto insieme più piccolo la cui somma sia esattamente 9 suggerimento per ottenere la somma di una sequenza si può usare la funzione sum quindi sum a cui passiamo una sequenza ci restituisce la somma degli elementi contenuti ok qualcuno ce l'ha fatta? ho paura di no è un approccio molto simile a quello degli anagrammi io ho una lista di partenza avrò una struttura dati di appoggio la soluzione parziale che parte vuota e mano a mano vado a inserire un numero per volta preso dalla mia lista di partenza ok costruisco queste soluzioni mettendo un numero per volta ogni volta che metto un numero controllo ok controllo la somma è esattamente 9 ad esempio ok ho trovato una soluzione oppure la somma è ancora minore del numero minore di 9 ok devo andare avanti potenzialmente devo aggiungere un altro numero oppure la somma è già maggiore di 9 ok non devo più andare avanti perché sono già oltre il mio limite ok quindi avrò la mia funzione trova combinazione ad esempio trova sotto insieme trova insieme uguale che riceverà un certo numero di parametri allora cosa riceverà sicuramente la lista di partenza quindi chiamiamola numeri riceverà anche il numero target direi poi potremmo avere ad esempio una struttura dati per tenere traccia delle soluzioni parziali quelle che costruiamo mano a mano e poi magari possiamo avere anche una struttura dati per la soluzione finale no quella completa quella che vogliamo ritornare adesso numeri è una lista la lista di partenza e quindi di conseguenza anche le strutture dati che usiamo per la soluzione parziale per quella finale saranno a loro volta delle liste direi ok benissimo prima cosa da chiederci la condizione di terminazione in realtà ce n'è più di una e le ho già dette prima a voce no siamo in un certo punto della ricorsione dove abbiamo in questa soluzione parziale un sotto insieme di numeri ok ora questo sotto insieme potrebbe essere ad esempio maggiore del numero target io avevo un sotto insieme che sommava a 8 ci ho aggiunto un altro numero un 3 e sto adesso sforando la somma quindi qui mi devo fermare non ha più senso aggiungere altri numeri quindi dico che se if la somma della mia soluzione parziale è maggiore del target ok mi fermo devo controllare qualcosa sulla soluzione no perché non è una soluzione valida e quindi semplicemente return stoppo la ricorsione non vado più avanti primo caso secondo caso ho aggiunto un numero e casualmente la somma della mia soluzione parziale coincide col numero target target if sum di parziale uguale uguale a target cosa devo fare qui? sono in presenza di una vera e propria soluzione no? una soluzione corretta allora il programma ci dice a me basta che ne ritorni una ok va bene allora potremmo tutte le volte sovrascrivere la nostra soluzione io dico che soluzione è uguale faccio una copia di parziale come si copiano le liste ad esempio così mi raccomando eh perché altrimenti non sto veramente copiando la lista abbiamo visto un esempio durante le lezioni faccio una copia ad esempio tramite uno slice che va dall'inizio alla fine di parziale vedete la differenza con gli anagrammi con gli anagrammi la nostra soluzione era una lista di parole una lista di anagrammi perché volevamo trovare tutte le soluzioni qui ce ne basta una sola a caso e quindi io ogni volta che ne trovo una la sovrascrivo e restituirò poi l'ultima che ho trovato e va bene ok quindi abbiamo visto il caso in cui la mia parziale sia già fuori dal limite quindi stoppo la mia parziale è esattamente una soluzione quindi ne tengo traccia se arrivo qui vuol dire che ho una soluzione parziale che non ha ancora raggiunto è minore del valore che sto cercando cosa devo fare qui è devo provare ad aggiungere un altro numero e quindi qui c'è il corpo della funzione ricorsiva quindi scorrerò i numeri e proverò ad aggiungerli uno per volta nella mia soluzione parziale quindi for n in numeri due punti il pattern è sempre quello se vogliamo costruire soluzioni mano a mano provo ad aggiungere un numero faccio andare avanti la ricorsione e poi faccio backtracking ad esempio provo ad aggiungere il primo numero che è 5 e richiamo la ricorsione dicendogli ok trovami tutte le soluzioni che contengono il 5 quando la mia ricorsione avrà esplorato tutto questo ramo quindi delle soluzioni che contengono 5 come primo numero dovremo togliere il 5 e provare con un altro numero ad esempio tutte le soluzioni che iniziano con 4 e questo si applica a tutti i vari step della ricorsione quindi il pattern è sempre dire parziale punto append n il numero faccio andare avanti la ricorsione trova insieme a cui passo di nuovo la mia parziale a cui ho aggiunto il numero i miei numeri il mio target e la mia soluzione quando ritornerò faccio backtracking parziale punto remove n anzi questa remove non funziona così bene perché qui potenzialmente possiamo avere anche numeri duplicati potremmo avere nella lista di partenza anche 10 volte il numero 4 quindi dobbiamo essere sicuri di ripristinare parziale parziale togliendo l'ultimo elemento che abbiamo inserito l'abbiamo visto la volta scorsa parziale uguale facciamo uno slice dall'inizio fino alla posizione meno cioè a len di parziale meno 1 giusto? in sostanza togliamo l'ultimo elemento che abbiamo inserito secondo voi è sufficiente o manca qualcosa? è lo stesso problema si esatto esatto come dice giustamente il vostro compagno fatto così non basta perché c'è il rischio anche c'è la certezza di prendere più volte lo stesso elemento così come negli anagrammi perché questo ciclo for qui poi riparte sempre da zero no? supponiamo di avere una lista che contiene i numeri 1 2 3 allora al primo giro aggiungerò il numero 1 e avrò la mia parziale che conterrà il numero 1 richiamo la stessa funzione e questo ciclo for riparte da zero e quindi riaggiungerò di nuovo l'uno dovrei invece passare al secondo elemento l'uno non più inserirlo allora vari modi possiamo replicare quello che abbiamo fatto per gli anagrammi possiamo addirittura visto che qui l'ordine non ci interessa ok possiamo addirittura rimuovere il numero da numeri anche se forse effettivamente seguire l'approccio degli anagrammi è più è più corretto in ogni caso posso dire numeri punto remove di n oppure potrei dire nuovi numeri uguale faccio una copia di numeri e poi da nuovi numeri rimuovo il valore n e passo però alla mia ricorsione nuovi numeri al posto di numeri in questo modo avendo creato una lista nuova ogni volta non vado mai a sporcare quella originale e quindi avanzo anche di fare il backtracking sui numeri per lo stesso motivo che abbiamo visto la volta scorsa quindi in questo caso su parziale ho bisogno di fare backtracking perché sto modificando la lista originale sarà sempre lei e quindi se la sporco poi la devo mettere a posto in questo caso per i numeri invece vado a creare tutte le volte una nuova lista quindi non sporco mai quella originale non ho mai da rimetterla a posto a questo punto abbiamo tutti gli ingredienti e possiamo invocare il nostro programma magari copio anche voi poi lo potete fare in sede d'esame copio l'input qui dal testo non dobbiamo chiederlo all'utente almeno il programma il testo non lo specifica quindi copio la mia lista partenza copio il mio target mi definisco due strutture dati vuote una per la soluzione e una per quella parziale e poi invoco la mia funzione ricorsiva che trova 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 insieme a cui passo parziale che all'inizio è vuota verrà costruita mano a mano la mia lista di partenza il mio numero target e poi la mia soluzione che anch'essa è all'inizio vuota e verrà poi riempita qui dalla mia funzione ricorsiva quando questa finirà io potrò stampare soluzione sperando che il mio programma l'abbia riempita no c'è qualcosa che non va mi stampa una allora se somma di parziale maggiore del target return se somma uguale a target sovrascrivo ah no scusate ho dimenticato anche un pezzo qui è vero che vogliamo tutte le soluzioni che abbiano quella determinata somma ma c'è un vincolo in più vorremmo la più piccola quindi quella con il numero minore di elementi questo è chiaro quindi ovviamente anche in questo esempio potrei trovare altre combinazioni che sommino a nove ad esempio mettendo uno due uno e altri numeri ma io voglio la sottolista più piccola e in questo caso la più piccola è formata da due elementi quindi quando siamo qui dobbiamo anche controllare che c'è un problema di ottimizzazione dobbiamo vedere se è la migliore soluzione che abbiamo visto fino a questo momento se questo è il caso me la tengo da parte se invece è più grande la scarto e quindi c'è una if in più devo dire if len di parziale minore di len soluzione cioè io in soluzione mi tengo traccia della soluzione che ho visto fino a questo momento e la sovrascrivo solo se ne trovo una veramente migliore quindi solo se ne trovo una più piccola quindi supponiamo a un certo punto della ricorsione trovo una sottolista di quattro elementi che fa che somma a nove poi in un altro momento trovo una sottolista da due elementi che somma a nove a quel punto sovrascrivo dimmi esatto quello che manca come dice giustamente il vostro compagno manca il primo la prima volta cioè all'inizio ovviamente soluzione è vuota quindi quando non ho ancora trovato nessuna soluzione qualunque soluzione ovviamente mi va bene quindi dovrò tenere traccia della mia soluzione se ne trovo una migliore oppure se è la prima volta che trovo una soluzione e quindi se l'en di soluzione ad esempio l'en di soluzione uguale uguale a zero oppure l'altro controllo quindi questo mi serve per dire ok non ho ancora nessuna soluzione ho trovato la prima la cui somma è quella che sto cercando va bene me la salvo altrimenti se c'è già una soluzione la sovrascrivo solo se quella che ho visto adesso parziale è migliore è migliore secondo ovviamente la specifica del testo quindi in questo caso è più piccola quindi rispetto agli anagrammi c'era anche questo passo in più di ottimizzazione non mi va bene qualunque soluzione voglio la migliore in questo caso la più piccola continuo a non stamparmi niente ma giuro che lo sistemo e poi lo carico sul sito c'è qualche errorino da qualche parte ma non abbiamo più molto tempo però penso che il concetto fondamentale sia emerso ok ripeto era volutamente più complicata di un esame non troppo ma un pochino sì però se riuscite a risolvere a capire bene questa secondo me poi non avete problemi a svolgere l'esame va bene io vi ringrazio per l'attenzione spero vi sia piaciuto questo modulo di python e ci vediamo tra qualche mese all'esame io vi ringrazio per l'attenzione grazie a tutti